Salve, è un piacere per me condividere questo percorso di affermazioni con te. Congratulazioni per voler esplorare questa dimensione che va oltre il tempo e che ti porterà a migliorare la tua vita. Questo che stai ascoltando è un dono che io faccio a te per il piacere di un tuo buon ascolto. Se sei a casa o alla guida della tua auto è il compagno perfetto per farti compagnia nel relax del tuo salotto o lungo il percorso della strada che tu stai percorrendo ora. Lascia che tutto quello che tu ora apprenderai entri nel tuo conscio. Lascia che queste idee siano e fanno parte di te. Questo programma ti apre la mente a come utilizzare le affermazioni per cambiare la tua vita. Tu sei il protagonista e testimone di come è possibile fare grandi cambiamenti positivi su tutto quello che tu vuoi trasformare nella tua vita. Dedico questo audio a tutti coloro che cercano e vogliono una vita migliore e che in questo istante mi stanno ascoltando. E' mio desiderio che ogni singola persona apprenda come utilizzare le affermazioni per creare amore, pace, gioia, prosperità, abbondanza e una essenza di benessere per se stessi. Il mio nome è Lazzaro e ti invito ad ascoltare questo audio per almeno 30 giorni. Oggi è un nuovo giorno, oggi è il giorno ed è per te il giorno dove tu inizierai a realizzare e a creare in una tua vita gioiosa tutta da vivere. Lascerai dietro di te tutte le tue limitazioni. Oggi è il giorno ed è per te il giorno che tu apprenderai i segreti della vita. Tu puoi cambiare la tua vita in meglio. Tu hai gli attrezzi che ti servono per cambiare. Questi attrezzi sono i tuoi pensieri e a quello che tu credi. Io ti insegnerò come utilizzare questi attrezzi per progredire la qualità della tua vita. Per quelli che non sono familiari con i benefici delle affermazioni positive vorrei spiegare in che cosa consiste. Un'affermazione consiste in quello che tu dici o che pensi. La gran parte di quello che normalmente diciamo o pensiamo ha tantissimo di negativo e non ci crea una buona esperienza positiva. Dobbiamo riformare il nostro modo di pensare e di parlare con un modello positivo se vogliamo cambiare le nostre vite. Un'affermazione ci apre la strada ed è il punto d'inizio per cambiare. In sostanza stai dicendo al tuo subinconscio mentale io sto prendendo responsabilità. Io sono alla conoscenza che c'è qualcosa che posso fare per cambiare. Quando parlo di fare affermazioni intendo dire che tu coscientemente scegli delle parole che possano aiutare a eliminare qualcosa dalla tua vita o che possa aiutare a fare qualcosa di nuovo nella tua vita. Ogni pensiero che tu pensi e ogni parola che tu usi nel parlare è un'affermazione. Tutto il nostro parlare è un estremo di affermazioni. Tu usi affermazioni in qualsiasi momento che tu lo sappia o no. Tu stai affermando e creando le esperienze della tua vita con ogni parola ed ogni tuo pensiero. Usando modelli di credenze abituali che hai appreso nella tua fanciullezza. Tante di queste credenze hanno lavorato molto bene per te. Altre credenze hanno limitato la tua abilità di creare quello che tu vuoi. Quello che tu vuoi e quello che tu credi che veramente ti meriti potrebbero essere molto diverse. Devi dare attenzione ai tuoi pensieri in modo che puoi iniziare a eliminare quelli che non vuoi sperimentare nella tua vita. Devi capire che tutte le volte che tu esprimi un lamento è un'affermazione di qualcosa che tu pensi di non volere nella tua vita. Tutte le volte che ti arrabbi tu stai affermando che vuoi avere tantissima collera nella tua vita. Tutte le volte che ti senti una vittima tu stai affermando che tu vuoi continuare a sentirti una vittima. Se senti che la vita non ti sta dando nel tuo mondo quello che tu vuoi, non avrai quello che la vita offre di buono agli altri. Sino a quando tu cambierai il modo di come pensi e di come parli. Non sei una persona cattiva per come tu pensi, perché sta di fatto che nessuno ti ha mai insegnato come pensare e come parlare. Il mondo sta iniziando solo adesso a capire che i nostri pensieri creano le nostre esperienze. I tuoi parenti probabilmente non sapevano questo, quindi non c'era la possibilità che loro potessero insegnarlo a te. Hanno pensato di farti vedere la vita nello stesso modo di come i loro genitori hanno insegnato a loro. Tuttavia è arrivato il tempo per tutti noi di svegliarci e di iniziare consciemente a creare le nostre vite in un modo che ci soddisfi e ci supporti. Tu lo puoi fare, io lo posso fare, tutti noi possiamo farlo. Dobbiamo solo imparare come si fa, quindi cerchiamo di arrivarci ora. Parlerò di affermazioni in generale, poi arriverò a delle aree specifiche della vita e vi spiegherò come ottenere dei cambiamenti positivi nella vita. Una volta che avrete appreso come utilizzare le affermazioni, potrete applicarle per i principi delle vostre situazioni. Alcune persone dicono che le affermazioni non funzionano, che sarebbe un'affermazione in se stessa. Quello che intendono dire è che non sanno come utilizzarle nel modo corretto. Potrebbero dire la mia prosperità sta crescendo e pensare «Oh, questo è stupido, lo so che non funzionerà». Quale affermazione è uscita fuori? Quella negativa. Perché è un lungo sentiero come vedere e apprendere la vita. Certe volte le persone dicono le affermazioni più di una volta al giorno e poi si lamentano per il resto del tempo. Ci vuole più tempo prima che le affermazioni possano lavorare se si utilizzano in questa maniera. Le affermazioni della mentela vincono sempre perché sono di gran maggioranza e vengono dette più spesso con una grande sensazione. Dire un'affermazione è solo una parte del processo. Quello che noi svolgiamo durante il resto della nostra giornata o della notte è addirittura molto più importante. Il segreto per ottenere rapidamente il lavoro delle tue affermazioni consiste nel preparare l'ambiente che ci circonda in modo che le nostre affermazioni possano crescere. Affermazioni sono come semi piantati nella terra. Terra povera, povero sarà il raccolto. Terra ricca, abbondante sarà il raccolto. Più tu scegli di fare pensieri positivi che ti fanno stare bene e molto più velocemente le tue affermazioni lavoreranno. Tutto questo consiste nel modo come tu scegli di pensare in questo momento ed è una tua scelta. Tu non ti rendi conto perché hai sempre ragionato nel modo come tu pensi per troppo tempo ma in effetti è una scelta. Ora, oggi, in questo momento, tu puoi decidere di scegliere e di cambiare il modo come tu pensi. Non cambierai nel percorso di una notte ma se tu sei persistente e tutti i giorni fai la scelta di pensare a dei pensieri che ti fanno stare bene senza dubbio farei dei cambiamenti positivi in ogni area della tua vita. Non importa quello che gli altri fanno perché è una scelta che ognuno di noi decide per sé. L'unico momento che tu vivi è in questo attimo perché è il tempo dove tu hai il controllo su tutto. Se non decidiamo di sentirci bene adesso, in questo momento come possiamo creare dei momenti per un futuro pieno di abbondanza e di allegria? Come ti senti adesso? Ti senti bene o ti senti male? Quali sono le tue attuali emozioni? Qual è il tuo istinto? Ti piacerebbe sentirti meglio? Allora, cerchi di arrivare a percepire le emozioni di un pensiero migliore. Se ti senti male in tutti i modi triste, arrabbiato, colpevole, depresso, geloso, critico, acanito, eccetera allora tu hai temporariamente perso la tua connessione con il flusso delle buone esperienze che l'universo ha riservato per te. non sprecare i tuoi pensieri in colpe nessuna persona, luogo o cosa ha il controllo su di te o sui tuoi sentimenti perché non pensano con la tua mente in effetti anche tu non hai il controllo verso gli altri perché non puoi controllare i loro pensieri nessuno può controllare i pensieri di un altro a meno che quella persona non dia il suo permesso quindi devi essere consapevole della potenza della tua mente tu puoi avere il controllo totale di quello che tu pensi è l'unica cosa dove tu hai controllo su tutto quello che tu scegli di pensare è quello che tu riceverai nella vita io ho deciso di pensare a pensieri di apprezzamento e di gioia puoi farlo pure tu quale tipo di pensieri ti fanno stare bene pensieri d'amore di apprezzamento di gratitudine ricordare esperienze di gioia pensare a cose belle che vorresti che succedano nel futuro festeggiare la tua vita benedire il tuo corpo con amore godere questo momento guardando avanti verso il domani fare questo tipo di pensieri è un atto d'amore verso noi stessi amando noi stessi creiamo miracoli nelle nostre vite ora andiamo verso le affermazioni fare affermazioni e scegliere consistentemente certi pensieri che creano risultati positivi nel futuro è il punto dove inizia a cambiare il tuo modo di pensare le dichiarazioni affermative vanno dietro la realtà del presente è dentro la creazione del futuro con le parole che utilizzerai ora quando tu scegli di dire io sono veramente prospero potrebbe darsi che tu attualmente hai pochi risparmi quello che stai facendo è piantare semi per un futuro prospero tutte le volte che lo ripeti stai affermando i semi che hai piantato nell'atmosfera della tua mente questo è il perché tu hai bisogno di avere un'atmosfera che sia felice le cose crescono molto più velocemente in una terra ricca è importante che fai le tue affermazioni in tempo presente io ho oppure io sono se tu dici io ho intenzione di oppure io avrò allora staranno nel futuro l'universo prende i tuoi pensieri e le tue parole molto letteralmente e ti dà tutte le volte quello che tu vuoi questo è un altro motivo perché devi tenere un'atmosfera mentale felice è facile pensare con atmosfera mentale felice quando stai bene ogni pensiero conta quindi non sprecare ogni tuo prezioso pensiero ogni pensiero positivo porta del buono nella tua vita ogni pensiero negativo allontana il buono tenendolo lontano da te quante volte nella vita stavi per ottenere qualcosa che poi è svanito all'ultimo momento se tu puoi ricordare la tua atmosfera mentale di quel tempo avrai una risposta troppi pensieri negativi creano una barriera opposta alle affermazioni se tu dici non voglio più essere malato questa non è un'affermazione per una buona salute devi dire chiaramente quello che tu vuoi io accetto una buona salute ora io odio questa macchina questa affermazione non ti porta di certo una nuova e bella macchina perché non sei precisamente chiaro e anche se la uterresti una macchina nuova in un breve periodo di tempo la udieresti perché questo è quello che tu stai affermando se tu vuoi una nuova macchina allora esprimilo così io ho una macchina bellissima che soddisfa tutte le mie esigenze certe persone dicono la vita fa schifo di cui è una terribile affermazione puoi immaginare che tipo di esperienza potrebbe portarti non è la vita che fa schifo è il tuo pensiero che fa schifo quel pensiero ti fa sentire pessimo e quando ti senti pessimo nulla di buono potrà arrivare nella tua vita non sprecare il tempo lamentandoti delle tue limitazioni con problemi, malattie, povertà, relazioni, ecc più tu parli di problemi e ancora di più tu ancori le tue affermazioni su tutta questa negatività non incolpare gli altri per i tuoi problemi è solo un altro modo per perdere del tempo siamo tutti sotto la legge della nostra coscienza dei nostri pensieri e attiriamo verso di noi esperienze tramite il modo come noi pensiamo quando cambi il processo di pensare allora tutto cambia nella tua vita sarai molto felice e meravigliato di vedere come le persone e le circostanze possono cambiare il biasimare è un'altra affermazione negativa non devi sprecare i tuoi preziosi pensieri su questo impara a trasformare le tue affermazioni negative in positive per esempio odio il mio corpo cambialo con questa affermazione amo e apprezzo il mio corpo non sono creativo cambialo con ho scoperto tanto talento dentro di me che non credevo di avere non sono abbastanza buono cambialo io merito il meglio questo non vuol dire che devi avere paura di ogni singolo tuo pensiero che tu pensi perché quando inizierai a fare più attenzione a come pensi ti renderai conto quanto erano orribili e negativi i tuoi pensieri prima quindi quando ti accorgi che hai fatto un pensiero negativo di a te stesso questo è un modo vecchio di pensare io ho scelto di non pensare più in questa maniera trova al più presto un pensiero positivo per sostituirlo e ricordati che tu vuoi stare bene in tutti i modi il più possibile i pensieri con sensi di colpa di sdegno e di tristezza ti fanno sentire miserabile e questa è un'abitudine che tu vuoi lasciare un'altra affermazione negativa è quando tu pensi che non sei abbastanza buono e che non meriti nulla dalla vita se questo è un tuo problema puoi iniziare a lavorare con la tua autostima creando delle affermazioni positive che dopo averle memorizzate ripeterai più volte vedrai le tue affermazioni materializzarsi nel percorso di poco tempo le affermazioni sono la soluzione per sostituire qualsiasi problema tu possa avere tutte le volte che hai un problema ripeti a te stesso ripetutamente tutto va bene tutto lavora per il mio bene da tutta questa situazione solo del buono potrà arrivare io sono sicuro questa semplice affermazione lavora facendo dei miracoli nella tua vita vorrei suggerirti di non condividere le tue affermazioni con altre persone di cui potrebbero pupù queste idee quando sei all'inizio è meglio che lo tieni solo per te stesso sino a quando hai raggiunto i risultati da te desiderati poi i tuoi amici diranno oh la tua vita è cambiata tantissima sei così diverso che cosa stai facendo? allora e solo allora potrai spiegarlo a loro per iniziare da ora ti suggerisco di utilizzare queste affermazioni io posso farlo io sto bene con me stesso io posso fare dei cambiamenti positivi nella mia vita parliamo ora di perdono non puoi mai essere libero dalla cattiveria sino a quando tu continuerai a pensare pensieri che non perdonano come puoi essere contento in questo momento se continui a scegliere di avere dei pensieri che hanno tanta ira pensieri di cattiveria non possono creare gioia non importa quanto tu possa giustificare i tuoi sentimenti non importa cosa essi ti abbiano fatto se tu insisti a trattenere il passato non sarai mai libero perdonando te stesso e gli altri tu uscirai dalla prigione del passato quando hai la sensazione che sei bloccato in qualche situazione o quando le affermazioni non lavorano solitamente vuol dire che c'è ancora tanto perdono da dare quando non percorri liberalmente la tua vita nel tempo presente solitamente significa che stai trattenendo un momento del passato potrebbe essere tristezza rimpianti paura colpe collera rinsentimento e tante volte il desiderio di vendetta ognuno di queste condizioni arriva ad uno stato di un non perdono e il rifiuto di lasciarlo andare per venire al momento presente solo nel momento presente tu puoi creare il tuo futuro se trattieni tutto nel tuo passato non puoi vivere nel presente solo adesso in questo momento le tue parole i tuoi pensieri sono potenti quindi non devi sprecare i tuoi attuali pensieri per creare il tuo futuro con i rifiuti del passato quando biasimi un altro tu stai dando via il tuo potere perché stai sostituendo le responsabilità dei tuoi sentimenti verso un altro le persone che ci circondano si comportano in certi casi in un modo che innescono delle risposte scomode per noi tuttavia non sono entrati dentro le nostre menti e creati i pulsanti che sono stati premuti prendere delle responsabilità per i nostri sentimenti e le nostre reazioni è perfezionare la nostra abilità di come rispondiamo in altre parole consciamente impariamo a scegliere al posto di una semplice reazione il perdono è un concetto confuso per tante persone c'è una differenza tra il perdono e l'accettare perdonare qualcuno non vuol dire che tu condoni il loro comportamento l'azione del perdono deve prendere posto nella tua mente non ha nulla a che fare con l'altra persona la realtà del vero perdono si posa nel lasciare andare noi stessi liberi dal trattenere il dolore che teniamo dentro è un atto di liberazione da flussi di energie negative inoltre il perdono non vuol dire consentire il dolore per le azioni dei comportamenti di un'altra persona che continuino nella tua vita certe volte perdonare vuol dire lasciarlo andare perdona e lasciali andare non importa quali siano le tue ragioni per avere dei sentimenti che non perdonano non puoi andare oltre loro devi lasciarlo andare tu vivi nel presente e puoi scegliere di pensare dei pensieri che ti fanno stare bene proprio ora tu puoi scegliere di praticare pensieri che creano positività oggi e domani sapere che hai creato dei pensieri abituali ti porterà a ricevere e ad avere il meglio per sempre affermazioni positive per raggiungere il perdono la porta del mio cuore si apre con parole mi sposto perdonando con vero amore come cambio il pensiero il mondo intorno a me cambia il passato è finito e non ha più potere ora i pensieri di questo momento creano il mio futuro non è divertente essere una vittima mi rifiuto di essere indifeso io rivendico il mio potere io do a me stesso il regalo di liberarmi dal passato e mi sposto con gioia nel tempo presente di ora io sono pronto a guarire sono disposto a perdonare e va sempre tutto bene io so che modelli negativi non mi limiteranno li ho lasciati andare per sempre come perdono a me stesso diventa facile perdonare gli altri perdono me stesso per non essere perfetto io vivo nel meglio e so come mi sento protetto e salvo ed è ora di lasciare tutti i trauma della mia fanciullezza e proseguire con amore io perdono le persone del mio passato per ogni sbaglio e li lascio andare con amore tutti i cambiamenti di vita e della vita prima di me sono positive e io sono salvo tu hai da scegliere puoi scegliere di restare bloccato o puoi fare a te stesso un favore perdonando volontariamente il tuo passato e lascio andare e muovendoti andando avanti creando una vita colma e piena di gioia tu hai la libertà di fare della tua vita tutto quello che tu vuoi perché hai la libertà di scegliere prosperità e ricchezza non puoi ottenere prosperità se affermi che hai un'insufficienza finanziaria perché così facendo stai affermando una perdita di pensieri che si perdono nel nulla in questo modo non potrai portare abbondanza dentro alla tua vita lamentarsi della propria fortuna attira negatività se pensi da povero otterrai tanta altra povertà se pensi con gratitudine otterrai tanta abbondanza ci sono alcune affermazioni che portano prosperità che vanno oltre alla ricchezza apri il tuo inconscio a nuove idee in riguardo al denaro e sarà tuo non ho mai abbastanza soldi questa è una bruttissima affermazione un'altra affermazione negativa è quando si dice i soldi che escono sono molto di più di quelli che entrano queste affermazioni sono pensieri di povertà non portano nulla di buono l'universo risponde a quello che tu credi e pensi in riguardo a te stesso e della vita esamina quali sono i pensieri negativi che hai in riguardo al denaro dopodiché falli uscire e lasciali andare via non ti hanno servito bene nel passato e non ti serviranno bene nel futuro affermando dichiarando meritarlo e permettendo sono i gradini che ti portano denaro un altro fattore che potrebbe allontanare la prosperità è l'essere disonesti qualsiasi cosa tu dai alla vita la vita lo restituisce a te tutte le volte se tu prendi dalla vita la vita lo riprende da te tu credi di non rubare ma hai mai contato tutte le volte che hai rubato nel posto di lavoro oppure il tempo che hai rubato alle persone o hai rubato il rispetto verso gli altri o hai rubato qualcosa che per te non era significante ma per altri lo era tutto questo conta è un nostro modo di dire all'universo io non mi merito nulla di buono nella vita devo prenderlo e ottenerlo con furbizia devi essere consapevole che quello a cui tu credi potrebbe essere la causa che blocca il flusso di energia che non ti permette di ottenere denaro cambia queste credenze e inizi a creare delle nuove credenze pensando a tanta abbondanza nei pensieri se noi vogliamo prosperità dobbiamo per forza usare il pensiero di prosperità allarga le braccia verso il cielo e ripeti con amore sincerità e gioia queste parole io accetto tutta l'abbondanza e la prosperità che c'è nell'universo grazie vita per tutta l'abbondanza che porti nella mia vita usa queste affermazioni dicendole con sincera intenzione affermazioni ovunque io vado prospero io ho abbondanza e prosperità nella mia vita io attiro il denaro verso di me come se fossi una calamita dentro di me cresce abbondanza e prosperità ogni nuovo giorno della mia vita è prospero creatività c'è tanta energia creativa in noi e in ogni momento della nostra vita stiamo creando il nostro futuro l'energia creativa dell'universo è collegata con la nostra vita e ognuno di noi ha un talento unico con delle capacità che vanno oltre a quelle che noi riconosciamo su noi stessi alcuni sono convinti nel credere che per essere creativi e avere del talento devi nascere con l'ispirazione d'artista musicista pittore scultore attore eccetera questa è solo una definizione ogni persona è un artista ed esprime la propria espressione creativa differentemente da un altro soggetto tutte le categorie di lavoro si basano sulla creatività perché senza la creatività non ci potrebbe essere innovazione e progresso muratore avvocato medico contadino meccanico panettieri fiorario eccetera svolgono tutte delle funzioni artistiche che abbiamo bisogno nella vita ognuno di noi è qui per uno scopo scegliere una professione richiede desiderio verso un certo tipo di arte se ti fai guidare dal tuo spirito puoi percepire la tua creatività l'universo ti ama e tu sei unico in tutti i tuoi modi di espressione credi in te e nella tua arte nulla ti può ostacolare dall'esprimere la tua creatività non importa quanti anni tu abbia perché la creatività non ha età ricordati che tu hai il controllo della tua vita con i tuoi pensieri e che nessuno può entrare nella tua mente e cancellare la tua creatività tu sei nato con delle capacità uniche che la vita ti ha offerto in regalo ogni uno di noi è speciale agli occhi dell'universo la vita ha inserito dentro di te qualcosa di prezioso la bellezza della tua arte che tu esprimi con i tuoi gesti i tuoi sentimenti con la tua voce e con il tuo pensare pensare richiede creatività tu puoi se vuoi nulla ti può fermare di pensare nessuno ti può ostacolare dentro i tuoi pensieri perché tu hai il controllo della tua arte giorno per giorno tu crei il tuo futuro tu sei l'artista della tua vita una vita piena di successo una vita piena di gioia amore abbondanza e di creatività nel percorso della mia vita ho sempre apprezzato le cose più semplici per quello che sono e per quello che possono diventare sono nato con il dono della creatività e con l'armonia della musica della pittura e della scrittura e della spiritualità il mio nome è Lazzaro grazie a tutti Grazie a tutti.